Ben ritornoschio boys and girls, siete pronti per una prova a non ridere a tema Minecraft? Ce l'ho pronta qui sotto, guardate come sono abile, ma prima di iniziare vi dico, regole numero uno, è una prova a non ridere seria, quindi non bisogna ridere davvero, non come quelle di finte che dici non proviamo a non ridere ma poi ridiamo tutto il tempo, no, noi veramente non dobbiamo ridere, ok? Ok, siamo pronti? Tutto chiaro? Iniziamo, faccia seria, quindi l'abbiamo fatta su GTA oggi, su Minecraft, l'uscia baruscia, via! Ok, allora vedete come al solito appartiene a qualcuno, questa qui è di un tizio chiamato Minecraft Royale, mi piace lui, che è una collezione di clip, la prima clip è di Dream, famosissimo, lo conoscete tutti quanti, ok. Ma è muto, non parla? È morto, vabbè Era divertente, non più di tanto, alziamo un po' il volume e vediamo un po' di sentire un po' di più, eh? Vediamo questo qui È uno bravo a giocare al gioco questo qua, può succedere a tutti del resto, eh? Eh, il fuoco, quando ti si attacca addosso, il fuoco della lava brucia per tanti... eh, lo so, lo so, lo so, ma noi non ridiamo, noi seri, seriosi, ci dicevano Un'altra di Dream, andando a caccia nel Nether, il Nether è un posto orribile, ricordiamoci tutti quanti questa cosa, non andiamoci mai più, facciamo una petizione per il mio... È a finire nella lava molto spesso lui, beh, almeno lui ci va da solo, io ci spingo i miei amici, quindi... Ah, il pulsante spazio rotto, questa mi sembra una scusa, però, eh, se posso permettermi Vediamo quest'altro, purtroppo la sua faccia è un po' compenetrata con la mia, però Non ci credo, ha dormito nel lettino Vabbè, un po' deficiente, eh? Purtroppo è tutto in inglese, quindi per noi altri è un po' più difficile, ma cerchiamo di capire insieme che cosa succede Spesso e volentieri non c'è bisogno di parole, eh? Bastiamo anche un po', così non ci disturbano queste parole incomprensibili in questo idioma a noi poco familiare Oh, io non è che voglio essere critico, perché sono molto bravi loro, un bel gruppo, mi piace, poi sono simili a noi VGF, insomma, quindi io supporto questo genere di video Però questa clip, no? Cioè, non è che fa ridere, cioè, ho capito, cioè Cioè, c'è gente che è morta, esplosa punta di roba, ok, va bene, cioè, immagino che se sei un po' sadico e ti piace vedere le persone soffrire Possa anche farti ridere, effettivamente, devo, devo, ripensandoci, ha senso Ma io non sono, a me non piace vedere la gente che si fa male, o che muore, o che perde le sue cose, o bruciare le cose degli altri nella lama Però questa cosa sta facendo, però, eh? E però qua ci ha addormito ed è esploso Questo fa ridere, effettivamente, questo fa ridere, lo concedo, ma non riderò Perché è una prova a non ridere? Ha riso lui, non io Io non riderò Cosa sta facendo questo qui? Che gioca con gli shader più imbarazzanti che ho mai visto, non si vede niente, è tutto buio Non lo so, è morto probabilmente, quasi sicuramente, anzi Acquittà, regiquittà, vedere la gente regiquittare comunque è sempre bello, secondo me Effettivamente, perché, no, c'è quella persona che proprio ha sofferto in quel momento e C'è un po' di sadismo, ce l'abbiamo tutti dentro, ci piace vedere qualcuno che muore Cioè, nel gioco Se ci piace vedere qualcuno che muore nella vita reale, siamo dei serial killer, dovremmo andare a farci arrestare Probabilmente Ah, c'è un creeper Vabbè, è anche vero però che se giochi con una gamba tirata su, tutto svaccato, così Non sei pronto e prestante lì nel momento del bisogno a reagire, eh, quindi Vabbè Vabbè, tengo il volume No, creeper fuori cazzo Eh, che urlo questo, l'avete sentito? Penso di sì Tengo un po' basso perché Alzo un pelino, dai Perché c'era un bell'urlo lì, mi dispiace che sia un perso Però poi quando parlano in inglese, noi non Cioè, io o parlo italiano O capisco inglese Cioè, non è che posso capire inglese e parlare italiano Mi confondo Vabbè, è morto Cioè, è una prova a non ridere con persone famose, sostanzialmente Perché sono tutte clip di gente famosa Però non è che Cioè, non è che a me questo mi impressiona più di tanto Cioè Una reazione del tutto contenuta Allora, devo fare una precisazione, ragazzi Mi aspettavo qualcosa di diverso da questa prova a non ridere Cioè, non sto dicendo che sono deluso Sono dei fail Che appartengono a persone famose A streamer e youtuber famosi Ok Vabbè, fa ridere perché ridono, però Mi trattengo, non rido Perché comunque noi stiamo facendo una prova a non ridere Però non è che sia così difficile, ecco Me la sto cavando anche troppo bene, secondo me Quando la gente muore nella lava mi piace Cioè, devo dire È più una prova a non rimanere soddisfatto Perché effettivamente sto rimanendo molto soddisfatto Anche da questa cosa qui Questo signore mi piace molto Perché muore un casino di volte nella lava Mi piace È un bravo streamer sicuramente Cioè, è caratteristica come Se sei bravo devi morire tanto nella lava Questo è un pro tip per tutti voi che volete avere tanti followers Magari su Twitch o su YouTube Ho detto la parola, vabbè Non dovrebbe essere troppo vietato Comunque, a proposito di quella parola che non ripetiamo Perché non va bene Però, trovate in live a noi tutte le sere alle 19 Sul sito Viola Che non diciamo Però, mi raccomando Lion WGF Live Tutto attaccato Non mancate Questo muore col Wither Che pure mi piace Meno della lava, però Sembra che non stia muore Sembra che stia vincendo, anzi Ha vinto Però ci muore Ci muore festeggiando A me questo faccia tanto ridere però Perché dai, che scemo sei Lì tutto a fare la festa Mai dire gatto finché non ce l'hai nel sacco Questo qui è quello svaccato con la gana Cioè, non ha imparato dalla prima volta Voi non la vedete, ma c'ha il ginocchio qui Questo è il suo ginocchio Lui è tutto svaccato Ecco, ho capito Ma se muori una volta Ma poi Metti di composto Pronto, prestante Eh Questo ho trovato una miniera In che versione di Minecraft sta giocando? 50 anni fa questa Pecchissima Supererà sicuro Ecco, guarda Deficiente Senza offesa Però Ah, è Reinhard Corre E beh, fa male Fa male Fa ridere Per noi sì Per lui no Probabilmente per lui no Per noi abbastanza Si sta facendo un po' più difficile Devo dire Questa prova Quando muori dall'enderman Fa ridere Perché l'enderman è stupido Quindi, capito Ti fa arrabbiare ancora di più Quindi a noi ci fa ridere Sapete cos'altro fa ridere? Che voi non sapete ancora Infatti adesso ve lo informo Così lo sapete Che nelle In tutte le edicole E anche in altri posti Trovate in giro Però Nelle edicole Lo trovate sicuramente Potete andare a comprare Le card e chips La Ionica Le patatine con sorpresa Guarda come sono belle A me i packaging Delle cose che stiamo facendo Piacciono tantissimo Quindi almeno un pacchetto Per ricordo Per Per Memorabilia Dovete comprarlo ragazzi Dentro ci trovate le card Un pacchetto di card Più ovviamente le patatine Più un giornaletto Mi raccomando ragazzi Se avete possibilità In tutte le edicole Le trovate Andiamo avanti adesso Scusate questo momento Promozione però Oh Ve lo devo far sapere No? Cioè Voi fate quello che volete Se non volete comprarle Non compratele Però Io ve lo dico Ecco Lo so che molti di voi Sono ghiotti Di patatine E ghiotti di cose laioniche Quindi io ve lo dico Ha faccappato il piccone Ha presa male comunque Fortuna 1 Eh Buono Fortuna 1 Eh Non va bene Oh Questa qua è una di quelle Che streama con la Con l'avatar Avete capito Ha detto un sacco di parolacce Però Molto arrabbiata la signorina Bello l'avatar Che si muove Quello che non da fa È molto bello Si usa molto In Russia In Cina Giappone Corea Che io sappia È molto bella Come cosa Meglio di vedere La faccia No Mia No Non è vero La mia faccia è bellissima Cosa sto dicendo Laion Non ti screditare così Sono fighissimo Quale avatar potrebbe Rimpiazzarmi Giusto Goku Forse potrebbe Pareggiare La mia figaggine Questo forse Probabilmente Sì La pareggierebbe Questo ha preso La banana Bobo A prescindere Oh Ha morto Bananato Ha riso però Dai Quello L'ha presa bene Vediamone un ultimo Oh my god Bello questo Bello Però Anche qui ragazzi L'ho già detto In quella di GTA Noi durante le live Ma anche nei video Ovviamente Facciamo un sacco di cose Sia su GTA Sia su Minecraft Mettendo insieme Tutti i pezzi Divertenti Di Minecraft Di fail Che ci sono successi Verrebbe una prova Non ridere 20 per quella Che abbiamo visto qui Cioè Mi immagino Solo tutte le volte Che ho ammazzato qualcuno Buttandolo nella lava Ho fatto cadere Me stesso nella lava Stati dei momenti Esilaranti Quindi boh Se qualcuno di voi Avesse voglia Di creare una prova Non ridere Per noi Ragazzi Sarebbe fighissimo Per oggi Comunque Ci fermiamo Fatemi sapere Se ne volete vedere Altre di Minecraft O di GTA O di altre cose O non di gaming Ditemi voi Nei commenti Che tipo Di challenge Reaction Vi piacerebbe vedere Per oggi Ci fermiamo Ricordatene di Trovate le carte Chips Lioniche Per voi E per oggi è tutto Lion out